Buongiorno amiche, amici di Facebook che mi seguite nella mia musica, in programmazione è un'altra nuova canzone che sto scrivendo, titolata San Valentino, e canto solo un po' il ritornello, una piccola frase. E finiamola qui, perché la devo ancora finire di scrivere e aggiustare un po' le parole. Che ne dite? Di vostro gradimento? Un bacione come sempre. Buona giornata a tutte. Ciao!